Agrediti verbalmente ma non solo, venivano infatti picchiati con un bastone, con un manico di scopa, costretti a sorreggere, pesi per ore ed infine, chiusi al buio dentro una stanza, punizioni sconcertanti che una coppia di nigeriani riservava ai propri figli piccoli, bimbi di un'età compresa tra i 3 e i 10 anni. A porre fine a questo incubo il coraggio di uno dei tre bambini, il più grande di appena 10 anni, che dopo l'ennesimo maltrattamento è riuscito a scappare di casa in tutta fretta e senza scarpe assieme ai fratellini, chiedendo aiuto ad una persona adulta che si è fatta a carico di loro e si è rivolta alla polizia di Stato. Estremamente delicate sono state le varie fasi dell'attività investigativa portata avanti dalla squadra mobile di Arezzo per cercare un riscontro circa gli orrori raccontati dai piccoli. Con il supporto essenziale della procura di Arezzo i bimbi sono stati collocati in una struttura protetta, allontanandoli così dai genitori. Per marito e moglie, entrambi residenti ad Arezzo, ed in regola con il permesso di soggiorno è scattata la denuncia per maltrattamenti e lesioni. Non solo dell'episodio è stato infatti interessato anche il Tribunale dei Minori di Firenze per valutare eventuali irrevoche circa la responsabilità genitoriale in capo ai due nigeriani.